Dieci anni, due lustri oggi da quel 12 maggio 2013, dall'ingresso del Trapani nella leggenda in Serie B dopo oltre un secolo d'attesa. E' l'impresa di una società, dirigenti e tecnici compresi, capitanata dal compianto Vittorio Morace e da Roberto Boscaglia, rispettivamente il presidente e l'allenatore più vincenti della storia Granata, ma soprattutto il capolavoro di un gruppo straordinario di ragazzi, materializzatosi al culmine di una vincente testa a testa con il Lecce. Quella banda di meravigliosi giovanotti vince per se stessa, ma anche per i propri antenati, vari Zucchinali, Ancilotti, De Dura, che 50 anni prima avevano visto evaporare il loro sogno all'ultimo istante. Alle 17.07 di una calda domenica di metà maggio, il triplice fischio dell'arbitro Gersini di Genova decreta la fine di una partita pazzesca e contestualmente l'inizio di una nuova era per il calcio trapanese. Il delirio dei quasi 2000 tifosi accorsi allo Zini di Cremona per sostenere l'ultimo sforzo dei propri eroi è quello di un'intera città e di una provincia tutta. Un traguardo ben oltre i confini dello sporto che avrà il potere di sdoganare questo lembo di terra posto ai confini con l'Africa dalla scomoda etichetta di terra di mafia, di riproporlo agli occhi del mondo anche sotto una luce diversa, per certi versi inedita, che narra esaltandolo del buono e del bello che c'è. Miracoli dello sport, di un patrimonio di inestimabile valore, la cui portata non è stata compresa fino in fondo da tutti, di un lusso che mai e poi mai i trapanesi si sarebbero potuti permettere, di uno stato di grazia comunque protrattosi per ben quattro anni, dipanatosi con grande dignità e impreziosito da un paio di gemme che vivranno per sempre nella memoria collettiva. La magica notte di Milano al Meazza in Coppa Italia contro l'Inter e la quasi conquista della Serie A, era la stagione 2015-2016, sfumata a conti fatti per un solo gollo dopo la doppia sfida play-off contro il Pescara. Ecco perché oggi il nuovo ambizioso corso del Trapani, targato Antonini, non può e non potrà prescindere da questo scorcio di recente passato, un autentico modello di riferimento al quale rifarsi tutte le volte che servirà da adesso in poi.